Bajardo Athletic, derby genovese della 24esima giornata di promozione B, è un match all'insegna del numero 1. Uno come la posizione in classifica del Bajardo, divisa a bianco-nero-verde, che vuole bissare il successo di domenica scorsa proprio per 1-0 sul San Desiderio per tenere a distanza al Canaletto, che ha solo un punto in meno. Uno come i punti che l'Atletic, in maglia nero-verde-gialla, deve recuperare alla Taros Sarzanese per accedere alla zona play-off. Al quinto minuto Bajardo vicino al gol, numero di Crosetti che si ritaglia lo spazio per crossare in mezzo, dove Belfiore alza troppo la conclusione. È il preludio al gol, ma dell'Atletic. Sul calcio d'angolo profondo di Lerini è imperioso Marraffa nel coltato. Belloro non trattiene e la palla va dentro per l'1-0 della squadra di Mariani. Dal replay di Luigi Pittatore non è chiarissimo se Balestrino riesca a toccare o meno la sfera prima che varchi la linea, ma Marraffa esultando si prende, secondo noi, la paternità del gol. Il Bajardo non si scompone, con pazienza cerca di rendersi pericoloso e al 29esimo si affida al suo foriclasse. Alex Belfiore, che prende palla, si accentra e disegna un sinistro chirurgico che fa sponda con la base del palo ed entra in rete per l'1-1. Con questo gol Belfiore consolida il suo primato in classifica Cannonieri salendo a quota 17. L'Atletic risponde con il cross di Amerio per Balestrino, ma è buona l'uscita di Belloro a sventare la minaccia. Nel finale di tempo una palla allontanata dalla difesa ospite diventa buona per Scalamera, ma il suo boli di raso terra viene ben controllato da Sangalli. Altro brivido per la squadra di Mariani, quando appena prima del duplice fischio di Zunino di Savona, una palla allontanata su un calcio d'angolo diventa preda di Crosetti, che di destra la spedisce sull'esterno rete. Termina 1-1 un primo tempo vivace e combattuto, che ha visto una bella reazione della capolista al gol incassato dopo pochi minuti. La prima occasione della ripresa arriva solo al 65esimo, ma rischia di cambiare le sorti del match. Sulla punizione di Lerini, Belloro in uscita viene anticipato da un colpo di testa di un difensore del Baillardo, che rischia l'autogol, palla fuori di un soffio. Il match scivola via senza che le due squadre riescano a trovare l'ultimo passaggio o lo spunto personale, ma nel primo dei quattro minuti di recupero, il pallone messo in mezzo dal fondo da Amerio viene deviato da peso a fil di palo. Ancora una volta Baillardo ha un soffio dall'autogol. Sul corner che segue, l'Atletic chiede il calcio di rigore per un presunto tocco di mano di Crosetti, ma l'arbitro fa proseguire. Il replay di Luigi Pittatore potrà forse chiarire l'accaduto. Al 94esimo l'arbitro fischia tre volte. Termina così senza vincitori né vinti il derby genovese. Stesso risultato maturato l'anno scorso proprio qui a Sante Eusebio. Ha un primo tempo molto vivace, seguita una ripresa abbastanza contratta giocata da entrambe le squadre. Termina così 1-1 il match fra Atletic e Baillardo.